Marghera ha causato scompiglio in Valbelluna, inducendo i carabinieri anche ad alzare l'elicottero dell'arma per braccarlo. È stato inseguito da Monte Belluna a Sedico nel Bellunese tra gli spari a salve. Il protagonista della vicenda, un 34enne del Madagascar, è stato arrestato anche per una sfilza di reati e portato in carcere. Sarebbe il pirata della strada che domenica pomeriggio ha travolto due motociclisti in via Fratelli Bandiera per poi scappare a tutto gas verso Mestre.